Ben ritrovati amici di InfoCilento a questo nuovo aggiornamento meteo. L'area gelida che ci ha interessati negli ultimi giorni tende ad allontanarsi verso est. Avremo quindi un addolcimento termico, ma attenzione perché andiamo incontro a un periodo decisamente più piovoso. Ecco infatti un'ampia zona depressionaria che si allunga fin sul Mediterraneo e che porterà alla nascita di più minimi di bassa pressione proprio sulla nostra penisola. Da un punto di vista termico avremo invece condizioni decisamente meno rigide. Sarà aria più umida e certamente più temperata rispetto a quella fredda che si allontanerà verso est e verso nord. Andiamo a vedere quindi in dettaglio cosa ci attende sul Cilento, Vallo di Diano e Alburni nella giornata di sabato. Avremo un'alternanza tra sole e nubi su tutto il territorio con piogge sparse nel corso della giornata. I fenomeni saranno più intensi nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio avremo delle pause asciutte. Diamo uno sguardo anche alla giornata di domenica quando avremo condizioni di forte e maltempo su tutto il territorio, con temporali lungo le coste e rovesci nelle zone interne. Attenzione a eventi intensi di libeccio, temperature in calo. Bene con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci!